So I can see it Si, come ogni pizzeria, non arriva a prendermi il pasto, il messuga lì Ci siamo rimasti 3-4 giorni senza Ci siamo tutti alla tratta Ma che genoa? Eh, fai tutti i ria, anche da me, no Gli italiani poi, no, vengono Prima roba che ti chiedono, sai qual è? La parola Eh, una seconda? Bisogna di riposo 2.600 euro anche da noi sapete di farmi il pizzerio le trovi 4 volte 1.200 euro le trovi dopo che siano bravi o no partire se ne era uno era più bravo la mia brava mi ha messo a posto assieme se il ponticello è a posto qua ieri c'è stata la discussione al bar dove? è alesso vedrai che per settembre non è ancora pronta si ma questa è roba del comune noi l'abbiamo fatto perché non è di competenza nostra guardi ieri sono andato su che se qualcuno si fa mai però un piccolo anno si ma comunque sono veduto su si perché ha detto che ha venuto fuori la sua ma fa e va bene due giorni l'abbiamo fatta no comunque ho venuto su vedere ieri l'ho chiamato il sindaco gli ho detto va che ha fatto e ha detto che si ma è roba un'aria si gli ho detto va che ha finito perché la gente in paese vada 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 gli che vada a venire non vada 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 io sono un po' solo a criticare il fassone la gente in paese infatti è che ho detto io sono passato la settimana a fare 10 giorni a fare questa è caduta nel senso si vuole un attimo in organizzazione abbiamo messo una rete qua quella verde come mai? ma se qualcuno viene giù a vedere se ti fa un volo non metto una rete verde bello così no? se qualcuno viene in bici guarda che fanno puntata su due ragazzi se questo continui su wave devono adesso si però qua come fai da spruzzare qua giù a peggio? è bello giù con la bollicina e qua la bote si è fermata qua su un secondo pilone qua giù non vieni ha dovuto tirare una manico come qua ora vediamo dove siamo da l'assù fin qua giù la fabbrina l'erba si potrebbe far quello di cosa però va fatelo se no è diverso quando piove qua a parte che bella però questa pista a parte che qua è tutto giallo la fabbrina l'erba qua dammi per su adesso già poi usa quei cosi la quei prodotti che viene sull'erba vedete che butti in testa qua sull'isase adesso stanno realizzando tutte le canalette che noi non avevamo adesso ho letto su con la banda domani perché hai fatto qualcosa ma Mario poi te la discutite domani ragazzi questa non la diamo su con la gif ma lì che hanno fatto del canaletto andiamo lì a partita andati indietro si asette ti è unido un giorno un giorno hai un giorno hai un giorno un giorno le sono un giorno lì un giorno Sì, è il weekend, sabato e domenica. Ma anche che la buca settimana scorsa è 5. Sono tardi a mezzogiorno. Sì, è proprio un po' a questo anno. Sì. Sì, sono, ce l'ha fatta?